A questo punto del corso abbiamo studiato non poco gli strumenti che sono la base della sicurezza delle nostre applicazioni. Siamo partiti dalla teoria sulla criptografia, da dove nasce l'esigenza di utilizzarla, la differenza tra criptografia simmetrica e asimmetrica. Siamo quindi passati allo studio del token GQT, che appunto si basa su una firma criptografica per la garanzia di autenticità e integrità dei dati. Token GQT che consente un approccio stateless, ovvero mantenimento dello stato sul client e non sul server. A questo proposito abbiamo analizzato i pro e i contro degli approcci stateless con GQT e stateful con le sessioni. Abbiamo anche analizzato il protocollo OTH e OpenID Connect, che sono protocolli che standardizzano il come implementare l'autorizzazione delegata e la singola autenticazione utilizzabile tra diverse applicazioni. Per quanto riguarda il processo di autenticazione, quindi di identificazione dell'utente che effettua una richiesta, in questa sezione studieremo Passport.js, che diciamo è una sorta di framework che ci permette di implementare uno o più meccanismi di autenticazione. I meccanismi, le varie modalità di implementazione dell'autenticazione, sono quelle che in Passport vengono chiamate strategie. Tra le strategie di autenticazione implementeremo anche l'autenticazione con Google. Google è un provider OTH e OpenID Connect, ovvero implementa il protocollo OTH e OpenID Connect per consentire autorizzazione delegata, ovvero accesso alle sue API da altre applicazioni, e per consentire una autenticazione condivisa tra applicazioni. Avendo analizzato il flusso OTH e OpenID Connect, non avremo grosse difficoltà a comprendere il codice che scriveremo. Andiamo sulla documentazione ufficiale di Passport, che è Passport.js.org, e leggiamo che lo scopo di Passport è fornire un sistema di autenticazione per le nostre applicazioni Node. Leggiamo che Passport è una middleware di autenticazione per Node.js, è estremamente flessibile e modulare, e può essere inserito in qualsiasi applicazione web basato su Express. Per quanto riguarda l'utilizzo di Passport, come dicevo, possiamo inserire, possiamo integrare diverse strategie di autenticazione. Possiamo ad esempio implementare una semplice autenticazione con username e password, ma possiamo anche utilizzare servizi quali Facebook, Twitter, GitHub, Google, e così via. Se andiamo in Feature, leggiamo alcune caratteristiche. Leggiamo che abbiamo a disposizione oltre 500 strategie di autenticazione. Abbiamo la funzionalità di Single Sign-On con OpenID e OTH. Abbiamo una gestione semplificata del successo o fallimento dell'autenticazione. Abbiamo il supporto per le sessioni persistenti, e così via. Che cos'è il Single Sign-On? Supponiamo che un utente deve utilizzare 10 applicazioni web. Un conto è che deve creare e utilizzare 10 credenziali diverse username e password. Un altro conto è se potenzialmente questo utente potesse registrarsi con username e password in una sola applicazione, ad esempio Google, e sfruttare questa registrazione come modo per identificarsi nelle restanti nuove applicazioni. Quindi tramite i provider di OpenID e OTH implementiamo quello che viene chiamato Single Sign-On, quindi consentiamo, permettiamo all'utente il registrarsi su un'applicazione quale Google e poter effettuare direttamente l'accesso all'interno della nostra applicazione tramite la registrazione di Google. Quindi se noi forniamo un pulsante Effetto e Login con Google o Facebook, lo facciamo per semplificare la vita all'utente, che non deve necessariamente compilare il nostro form di registrazione. E' anche positivo per noi in realtà, in quanto rimuove la barriera psicologica dell'utente, di dover esplicitamente fornire dei dati, quali nome, cognome, email e così via. Se andiamo in Strategies, abbiamo l'elenco delle 520 strategie disponibili. Possiamo ricercare la nostra strategia e vediamo quali sono le strategie più utilizzate. Abbiamo Passport Facebook, Passport HTTP Bearer, Passport Google OTH e poi abbiamo Passport Local. Per quanto riguarda la strategia di autenticazione con username e password. Ed abbiamo Passport JWT, per quanto riguarda la strategia di autenticazione con il token JWT. E se andiamo all'interno di Documentation, abbiamo tutta la documentazione. Non è perfettamente organizzata, ma con un po' di pazienza possiamo ottenere tutte le informazioni necessarie.